Bene siamo qui da Marsub e parliamo di subacquea. Scusi lei è famoso Tino no? Si. Tino ma lei lavora con i sub normali o con i sub normali? Io con i normali ci lavoro male, con i sub normali meglio. Ecco io sono sub eccezionale, ha qualcosa da darmi? Se è eccezionale minga tanto eh, perché se è eccezionale non mi sono ancora attrezzato per gli eccezionali. Va bene, allora mi puoi parla stare con l'ingegner d'argento? Come? Come va con la sordità? E che è? La malattia della decompressione ce l'ha lei? Le pillole per la deco? La deco? Decompressione ce l'ha le pillole? Si. Sordità? Niente perché c'è la malattia del subacqueo che è la sordità, capito? Sordità! Sordità! Ciao da Marsub! Sordità! Ciao da Marsub! Ciao ciao ciao! Sordità!